Ben trovati da Cesenatico, oggi ci accoglie una bella giornata di sole, siamo in compagnia della signora Sabrina Maggi che insieme alla famiglia gestisce due strutture alberghiere proprio qui sul lungomare. Buongiorno Sabrina, buongiorno a lei. Allora vogliamo dire il nome delle due strutture? Sì, l'hotel Garden a Valverde e l'hotel della Villa Villa Marina, sono a poche centinaia di metri di distanza, circa 500 metri uno dall'altro, direttamente sul mare. Sono direttamente sul mare, diciamo che il panorama è un bel vedere, siamo proprio a ridosso della spiaggia e anche tanto verde attrezzato e curato. Sabrina, quali sono le caratteristiche di queste due strutture? Diciamo che le strutture sono abbastanza simili, tutte e due ideali per famiglie con bambini, tutte e due un'ampia piscina. Fate il servizio di pensione completa? No, noi facciamo un servizio di pensione completa quindi con cucina romagnola, curata direttamente da noi, la cucina, siamo quindi a pochi passi dalla spiaggia, proprio se attraversa la strada c'è il mare e direi che è ideale per soggiornare, una bella vacanza, diciamo tempo pieno, lasciare la macchina e poter appunto godere di tutte queste attività che ci sono. Siete anche vicinissimi al centro di Cesenatico perché ci vuole 5 minuti di tempo di macchina, però nello stesso tempo siete anche ubicati in una zona molto importante perché siete un po' nel centro della Romagna, praticamente siete equidistanti dai parchi tematici come Oltremare di Riccione, l'Aquafan, l'Italia Miniatura e Mirabilandia. Ecco, per voi è sicuramente un vantaggio questo? Sì, direi che per le famiglie che piace andare ai parchi, soprattutto nella bassa stagione, siamo in una posizione strategica, proprio 15 minuti da Mirabilandia e più o meno 20 minuti dagli altri parchi, zona Rimini. Bene, a questo punto vogliamo dare i dati per potervi contattare, eventualmente effettuare una prenotazione. Il nostro recapito telefonico è 0547 86694, potete visitare il nostro sito internet che è www.hotelgardencesenatico.com e per scrivere un'email a bookingchiocciolamagiotels.it. Benissimo, allora vi invitiamo tutti a venire a Cesenatico a godere dei servizi delle due strutture facenti parte del gruppo Magiotel. Da Cesenatico è tutto, ringraziamo la signora Sabrina. A voi studio. Grazie. Grazie. Grazie.